Logitech Create è la nuova tastiera per il fratello minore degli iPad Pro, quello da 9.7 pollici. Andiamo a vederla insieme, l'abbiamo provato per una decina di giorni. Andiamo a vederne le caratteristiche e le qualità di questa nuova tastiera di Logitech. Eccola qui allora la nuova tastiera per iPad Pro creata da Logitech, si chiama Create. È una tastiera che poi fa anche da cover, è una tastiera fisica che fa da cover. La apriamo, lo vediamo subito all'interno, è costruita con un materiale idrorepellente, quindi anche nel caso ci dovessimo versare del liquido sopra non ci sono problemi. È costruita molto molto bene perché i tasti sono a corsa rapida, un po' come quelli di MacBook. Come vedete qui nella parte superiore ha i connettori, i connettori per lo smart connector di iPad Pro. È una tastiera come vi dicevo con i tasti a corsa rapida, infatti abbiamo molta similitudine con quelli della tastiera del MacBook. È una tastiera retroilluminata, quindi anche di notte appena agganceremo l'iPad allo smart connector si accenderà e dopo circa due secondi si spegne se non digitiamo sulla tastiera. Appena tocchiamo un tasto si riaccende, quindi questo consente anche di risparmiare un po' di batteria per quanto riguarda il consumo. È costruita appunto, vi dicevo, in questo materiale gomma all'interno, molto morbida, idrorepellente all'esterno. Abbiamo anche questo laccetto per inserire la Apple Pencil, io ce l'ho qua, vi faccio vedere subito l'inserimento. È molto molto comodo perché purtroppo l'Apple Pencil non avendo una clips non sapevo mai dove metterla e quindi in questo caso ci viene proprio a taglio, comodissimo da portare, da portarci dietro. Come vedete sulla parte laterale abbiamo i pulsanti più e meno ben evidenziati con questo colore bianco acceso su questa cover nera. Abbiamo lo spazio per la fotocamera, il flash led e il microfono e ovviamente il pulsantino di accensione e i due fori per i due autoparlanti. Andiamo a inserire l'iPad all'interno così vi faccio vedere anche come si presenta. Allora è molto facile l'inserimento perché basta semplicemente incastrarlo sui due lati, basta spingere con forza, ecco fatto, l'iPad è già installato al suo interno. Ovviamente quando chiuderemo l'iPad sente tramite i sensori lo spegnimento dello schermo, quindi si spegnerà in automatico e ovviamente quando lo riascenderemo lo ritroveremo acceso. Come vi dicevo molto comoda questa cover perché non appena la gireremo e agganceremo l'iPad alla tastiera sarà già collegata, quindi basterà semplicemente lo sblocco del dispositivo per andare a digitare sulla tastiera ed è già completamente funzionante, quindi non ha bisogno assolutamente di connessioni Bluetooth o quant'altro, quindi avviene molto istantaneo praticamente il collegamento con la tastiera. E se lo scolleghiamo, che quindi utilizziamo l'iPad normalmente come un tablet, i tasti ovviamente non saranno collegati, quindi anche se la utilizziamo in questo modo non si avranno problemi, insomma, nel caso inavvertitamente toccheremo la tastiera da sotto, insomma non succederà nulla su iPad. Molto comodo l'aggancio come vi dicevo perché è anche abbastanza stabile, ha solo questo leggero movimento ma niente di che, la tastiera anche sulle ginocchia appare molto molto stabile, molto buona la digitatura, vi faccio vedere una nota, andiamo a aprire note e andiamo a scrivere una nuova nota. Ciao amici di TechDifferent, come state? Vedete che è veramente molto molto rapida come battitura. Qui abbiamo, qui nella prima riga abbiamo tutti i tasti molto simili a quelli del Mac, perché abbiamo la regolazione della luminosità della tastiera stessa, in tre regolazioni differenti, possiamo regolare la luminosità dello schermo tramite i tasti fisici appunto, ovviamente accendere o spegnere il produttore musicale, alzare e abbassare il volume, proprio come avviene insomma sul Mac, bloccare l'iPad, questo è un tasto molto comodo perché tutte le volte dovremmo andare qui dietro e cliccare il tasto, invece semplicemente premendo il tasto l'iPad andrà in blocco automaticamente. Da questa parte invece abbiamo il tasto che ci consente di uscire e tornare alla Home, quindi il classico tasto Home e qui abbiamo i tasti funzione classici, Alt, Command e i tasti freccia, l'invio e i soliti tasti insomma di un classico PC. Quindi è una tastiera veramente di ottimo livello e di ottima costruzione, è costruita veramente molto bene ed è molto molto piacevole al tasto, ovviamente inspessisce abbastanza l'iPad perché l'iPad Pro è comunque molto sottile, molto fine, quindi in questo caso abbiamo un po' questo inspessimento, ma d'altra parte è normale perché comunque fa sia da cover sia da tastiera fisica. È molto ben costruita come vi dicevo, anche i fori posteriori per la fotocamera, per il flash LED e per il microfono sono veramente ben riusciti anche per il secondo microfono e idem per gli autoparlanti che sono posti alle due estremità del tablet. Tastiera che vi dicevo che è molto molto comoda anche per l'utilizzo della Pencil, che possiamo inserirla in questo laccetto che c'è nella parte intermedia della tastiera e ripiegandola su se stesso andrà a fare una sorta di stand e potremo utilizzarla semplicemente girandola in questa posizione, semplicemente come stand perché verrà inclinata e sarà anche comodo per poter disegnare o scrivere con la Apple Pencil. Potete trovarla sul sito ufficiale della Logitech, vi lascio il link qui in basso al video, al costo di 139€, disponibili vari layout, tra il quale quello italiano che ovviamente è quello che abbiamo provato noi. Tastiera molto molto interessante, ve la consiglio perché è vero il costo non è bassissimo, ma comunque è inferiore a quella di Apple, originale Apple. È una testiera che mi sono trovato veramente molto molto bene in qualsiasi occasione, ve la consiglio in tutti gli utilizzi che potete farne. Bene, per questa recensione direi che sia tutto, lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale per altre recensioni. Da Cristian Martini per TechDifferent è tutto, un saluto.